La tua Etruria è a Vignanello dove questa sera per i festeggiamenti in onore di San Biagio e Santa Giacinta ci sarà un grandissimo concerto con il protagonista Albano. Intanto benvenuto nella terra di Tuscia. Grazie, gran bella terra, eccezionale terra. Senta, lei ha iniziato veramente dalla gavetta, parliamo di una gavetta non da cantante, una gavetta da lavoratore vero. Che cosa ha imparato e quanto le è servito poi nella carriera aver conosciuto il lavoro serio? Io ringrazio il Dio che mi ha dato e che mi ha dato intanto un'infanzia eccezionale, fatta di lavoro, di raro divertimento e soprattutto mi avete saputo estirpare fin dai primi passi l'erba dell'ozio. E quindi questo mi ha permesso poi di poter affrontare tutto ciò che c'è da affrontare con grande orgoglio, con grande decisionismo e con la voglia di fare esattamente quello che volevo fare. Ha conosciuto veramente, cioè chiaramente il lavoro di cantante lo svolge come sia, ovviamente è una sua professione, però ha conosciuto, ecco, ha cancellato l'ozio e questo già è molto importante. È un bel messaggio anche per il domani. Secondo lei ragazzi adesso giovani, chi vuole fare il cantante, ma anche qualsiasi altro lavoro? Come si trova? La peggior cosa è dover giudicare gli altri perché è vero che ci sono giovani, è vero che ci saranno giovani, è vero che anche noi siamo stati giovani, ma soprattutto è vero che ogni giovane è figlio sì dei suoi genitori, ma soprattutto anche del tempo che stanno vivendo, di un tipo di educazione che arriva sia da un certo tipo di scuola che da un certo modus vivendi, che ovviamente è sempre diverso da quello di quando noi eravamo giovani. Quindi non ci sono lezioni da impartire, solo vivere? C'è soltanto il bisogno di capire perché il mondo va in quella direzione, perché il mondo è cambiato rispetto a noi, ma il mondo è sempre cambiato, quindi non dovrebbe essere una novità per nessuno. Senta, con la terra di Tuscia c'è già stato, ha avuto altri concerti, altri contatti, ha dei ricordi particolari, degli aneddoti per questa terra? Intanto una grande cultura che avvolge tutta questa terra, intanto cammini e sai di camminare su un letto di storia, storia incredibile, storia con radici profondissime. Se stai attento ai muri, se stai attento al tipo di costruzione di queste case, questi paesini, ti parlano di pura poesia, ti parlano di sudore, ti parlano di storia e ti smarrisci, in qualche modo ti smarrisci. Però riprendi te stesso perché è giusto che sia così, con la voglia di ritornare. Io ricordo sia l'arte del passeggiare, di osservare, di vedere la chiesa, il duomo, di capire che cosa c'è, e sia poi la cucina. La cucina in questa zona qua è veramente speciale. Mi colpì moltissimi anni fa quando sono venuto per la prima volta e continua sempre a stupirmi. Devo dire che l'Italia è forte in cucina, siamo i migliori al mondo, non ci sono dubbi. Sulle altre cose, insomma, si può anche discutere. Beh, prendiamoci almeno quello che c'è di buono e grazie per la poesia che ha regalato alla nostra terra. Senta, un'ultima cosa, la cosa più bella di questo 2013, avvenuta o che magari deve ancora venire? Cosa, cosa? Qual è la cosa più bella che si aspetta da quest'anno? Secondo me la salute, poi ancora salute e terzo salute, perché grazie a quello puoi fare tutto ciò che vuoi. E allora tanti auguri. A tutti. Ciao. Nostalgia, 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 canaria, che ti prende proprio quando tu vuoi. Ti ritrovi con il tuo duore d'Italia, è un incendio che non spegni mai. Nostalgia, 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 canaria, di una strada, di un amico, di un bar, di un paese che sogna e che sbaglia, ma se chiedi poi tutto ti dà. Nostalgia, 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 canaria, che ti prende proprio quando tu vuoi. Ti ritrovi con il tuo duore d'Italia, è un incendio che non spegni mai. Nostalgia, 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 canaria, di una strada, di un amico, di un bar, di un paese che sogna e che sbaglia, ma se chiedi poi tutto ti dà. Nostalgia, 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 canaria, che ti prende proprio quando tu vuoi. Ti ritrovi con il tuo duore d'Italia, è un incendio che non spegni mai. Nostalgia, nostalgia, canaria, di un amico, di un amico, di un paese che sogna e che sbaglia, ma se chiedi poi tutto ti dà. Grazie. 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 Grazie a tutti. Buonanotte, buona vita, buona vita, buon tutto, sempre, ciao, felicità a tutti. Grazie.